24 giugno 1866, terza guerra di indipendenza italiana. L'Austria sconfigge a custozza l'esercito italiano numericamente superiore. Il grave insuccesso dell'Italia si deve soprattutto alla scarsa organizzazione dei comandi dell'esercito, i quali, malgrado la conquista di importanti teste di ponte, ordinano il ripiegamento. Il giorno 24 giugno, il generale Cialdini, che aveva preso il posto di La Marmora, invece di intervenire in appoggio alle truppe sul fiume Mincio, abbandona il campo, fuggendo davanti al nemico per ripiegare in salvo a Modena.